Mi lasci dire che a me pare una formula di stile. Io credo che questo testo sia sicuramente perfettibile, ma lo era anche la seconda parte della Costituzione quando venne approvata in sede di Assemblea Costituente. E però non c'è dubbio alcuno che è stato pensato per costruire un organo nuovo che ha nuove competenze che saranno molto utili al Paese se saranno ben utilizzate. Lei pensi soltanto al fatto che una Camera, il nuovo Senato, senza il vincolo di fiducia, e quindi libero del voto di fiducia, potrà esercitare un'attività di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche. A me pare che si colmi anche un vuoto nel nostro sistema istituzionale e si dia più efficacia all'azione anche del Governo, che dovrà misurarsi con gli effetti di questa valutazione.